Musica Brucia la riserva naturale di Vendicari, fiamme domate dopo 12 ore, 5 ettari di vegetazione sono stati ridotti in cenere. Si ferma la caccia in Sicilia, il CGA riconosciuto le ragioni delle associazioni ambientaliste dopo i devastanti incendi nella regione. Manifestazione di protesta in difesa dell'ospedale, Giovanni Paolo II risciacca per una sanità più efficace e più efficiente. Presentato a Palermo il report realizzato dall'osservatorio sul turismo per le isole europee che ha aperto l'edizione della borsa del turismo extralberghiero. Sconti sul costo dei biglietti aerei per tutti i residenti in Sicilia, questa è la strategia del governo Schifani per contrastare il carovoli. Musica Ben trovati alla seconda edizione di Media News di sabato 11 novembre. Come avete sentito dai titoli, brucia la riserva naturale di Vendicari, fiamme domate dopo 12 ore, 5 ettari di vegetazione sono stati ridotti in cenere, non si esclude la matrice dolosa. Dopo 12 ore di estenuante lavoro alle 5.40 di questa mattina il grosso incendio sviluppato sieri pomeriggio nella riserva di Vendicari è stato spento. Un nuovo capitolo dell'emergenza incendi in Sicilia che sembra non trovare fine nemmeno a novembre a distanza di due mesi dai roghi che hanno già fortemente colpito la provincia di Siracusa provocando già gravissimi danni. Il focolaio si è propagato da un canneto e ha divorato 5 ettari di vegetazione ma i danni potrebbero essere maggiori. I vigili del fuoco sono entrati in azione con gli operatori della forestale, volontari e la protezione civile di noto. Insieme hanno lavorato per tutta la notte per creare tramite un escavatore un'area tagliafuoco allo scopo di arginare l'avanzamento dell'incendio. Le forze dell'ordine intanto hanno avviato le indagini per svelare le cause dell'incendio ma non è esclusa un'azione dolosa. A questo stanno lavorando i magistrati della procura di Siracusa che hanno aperto un fascicolo di inchiesta per svelare possibili responsabilità in questo nuovo incendio che colpisce un'area naturalistica. Si ferma la caccia in Sicilia. Il CGA ha riconosciuto le ragioni delle associazioni ambientaliste in merito alla sopravvivenza degli animali dopo i devastanti incendi nella regione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha sospeso il calendario venatorio 2023-2024 emanato lo scorso giugno dall'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino. Da oggi quindi stop in tutta la Sicilia le doppiette che avevano iniziato a sparare il 2 settembre con una deroga preapertura autorizzata dall'assessore nonostante il parere negativo di Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e incendi devastanti in tutta l'isola. Il CGA infatti ha riconosciuto che come adeguatamente comprovato dalle associazioni ambientaliste appellanti, i notevoli incendi divampati nel territorio regionale associati allo straordinario aumento delle temperature che si sono verificati nel periodo estivo, hanno determinato un facilmente intuibile e significativo rischio per la sopravvivenza degli animali. In questo senso sono particolarmente significative le due delibere con le quali l'Aggiunta regionale siciliana ha preso atto della gravità della situazione, avanzando ai competenti organi statali la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di 12 mesi. Sanità, manifestazione di proteste in difesa dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca per una sanità più efficace e più efficiente. Il corteo è partito da Piazza Saverio Friscia per giungere in Piazza Angelo Scandaliato, dove si sono tenuti gli interventi dei sindaci e dei deputati regionali del territorio. Vediamo. Sciacca ha risposto con forza all'invito espresso dagli organizzatori ad essere presenti per manifestare in difesa dell'ospedale Saccense per una sanità più efficace e più efficiente. Presenti 19 sindaci della provincia di Agrigento, deputati regionali, sindacati, studenti degli istituti superiori di Sciacca, commercianti che hanno deciso in autonomia di tenere chiuse le proprie attività per essere presenti al corteo, oltre a tanti cittadini di Sciacca e del comprensorio. Questo è un tema caldo e che tutti sentono. Non è vero che questi bisogni sono lontani poi dalle vite di tutti i giorni. Ormai questo è un tema così sensibile che è diventato un tema sociale prima che politico. Secondo me il manager oggi ha perso un'occasione perché sarebbe stato corretto che ci fosse anche lui oggi qui perché nessuno sta facendo una battaglia contro una singola persona. Qua è una battaglia che si fa a difesa di un ospedale e chi è alla gestione di questa struttura e delle altre sarebbe stato giusto vederlo qui. Dobbiamo continuare a valorizzare quel 17 giugno scorso dove 4.000 cittadini agrigentini hanno gridato lo sdegno che hanno rispetto alle scelte politiche di questo governo regionale che segue il governo regionale che hanno deciso sostanzialmente di privatizzare il servizio nazionale. È una presa di coscienza ed è una difesa e tutela della salute di questo territorio. I sindaci che qui siamo a rappresentare i nostri territori insieme ai cittadini e alla deputazione regionale e nazionale vogliono ancora una volta ribadire il concetto che l'ospedale di Sciacca da dea di primo livello quale era sulla rete ospedaliera del 2019 oggi è stato svuotato di servizi essenziali e alcuni non sono neanche stati istituiti. I cittadini devono diventare protagonisti della propria storia, sì la nostra è una democrazia rappresentativa però la presenza dei cittadini è uno stimolo per le istituzioni, cioè questo significa che non è possibile pensare che si possa fare tutto quello che si vuole, tanto la gente non capisce niente. Se testimoniamo la vicinanza all'ospedale di Sciacca, all'ospedale di Ribera, alla sanità della provincia di Grigento, noi ci siamo. Non penso che sia una manifestazione di protesta contro nessuno, né contro il governo, non potrei essere qua, né contro il manager perché credo che abbia pochissime responsabilità su quello che sta accadendo in Italia, in Sicilia e quindi anche in provincia di Grigento. Oltre alla presenza bisogna essere conseguenziali con le azioni e le azioni ad oggi di un governo regionale che purtroppo, ahimè, non mi pare che abbia messo come priorità il diritto alla salute in Sicilia e quindi questo è il prezzo che stiamo pagando noi nei territori e proprio e soprattutto noi oggi stiamo manifestando per Sciacca, per il distretto di Sciacca e per il diritto che qua ad oggi secondo me è leso. Restiamo in tema, criticità e carenze della rete ospedaliera nella provincia di Messina che mostrano una situazione quasi al collasso. La sanità in Sicilia continua a presentare ancora criticità a Messina. Da tempo si annunciano riorganizzazioni, rilanci di servizi ma si continua ad avere a che fare con strutture di primo soccorso sottodimensionate, trasferimenti di interi centri specialistici e strutture periferiche essenziali non attenzionate dalla politica. All'interno della Commissione Sanitale Emergenza dei Servizi Esistenti la migliorare e soprattutto il problema della carenza di medici. La situazione sanitaria e della rete sanitaria in generale, tanto ospedaliera quanto del territorio, in Sicilia e in provincia di Messina è arrivata quasi al collasso. Dobbiamo avere il coraggio, noi che facciamo politica, soprattutto all'interno della Commissione Sanitale, della quale io mi onoro di essere vicepresidente, di mettere mano alla rete ospedaliera. Mettere mano alla rete ospedaliera per efficientare i servizi esistenti. Purtroppo non possiamo nasconderci dietro un dito, mancano i medici, lo sappiamo, lo sanno tutti e lo diciamo ogni giorno. A parte la proposta che è stata approvata a mia prima firma dall'Assemblea regionale siciliana all'unanimità, non ci sono soluzioni immediate. L'unico modo è efficientare le risorse esistenti. La politica deve metterci la faccia per fare questo. I medici scappano, mancano in senso assoluto di generale, questo sì, ma scappano dalle strutture pubbliche. vadano verso le strutture private perché lì hanno un contratto di lavoro più appetibile, hanno delle strutture, diciamo, in senso fisico ben più organizzate e riescono a lavorare meglio. È opportuno intervenire anche in tema di edilizia, in tema di ristrutturazioni per quanto riguarda le strutture ospedaliere, ma non solo. L'unico modo per garantire il bisogno di salute dei cittadini, vista la carenza dei medici, è investire in prevenzione. In prevenzione vuol dire investire in quelle strutture intermedie, che sembra che saranno le strutture, diciamo, della casa di comunità, ospedale di comunità, ma anche per quanto riguarda quelle che sono le strutture, diciamo, delle medicine del territorio, quindi i medici di base, i pediatri di benascenza e tutti quelli che sono gli ambulatori. Cambiamo argomento. Atti persecutori, stalking, criminalità organizzata, nove le misure di prevenzione personali eseguite dalla Polizia di Stato di Catania. La Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a nove misure di prevenzione personali nei confronti di persone ritenute pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Cinque persone responsabili di atti persecutori, stalking o maltrattamenti in famiglia, un esponente di un sodalizio mafioso nei confronti di quattro delinquenti comuni. I poliziotti hanno eseguito la misura nei confronti di un 44enne di Biancavilla al quale è stato anche imposto il divieto di avvicinamento alla vittima per due anni dello stesso tipo, la misura applicata ad un catenese di 39 anni al quale è stato imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Inoltre hanno applicato la sorveglianza speciale ad un 31enne al quale è stato imposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento per due anni all'ex convivente. Le stesse misure sono state applicate ad un 49enne che è già munito dal questore di Catania per le condotte vessatorie e violente nei confronti dell'ex compagna. I poliziotti hanno poi eseguito la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di un anno e mezzo nei confronti di un uomo gravemente indiziato di appartenere al sudalizio mafioso Santa Paola Ercolano, operante nel territorio della provincia di Catania e specializzato nelle estorsioni. Infine gli agenti hanno dato eseguzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di quattro persone responsabili di reati comuni, tra questi un 46enne condannato quattro volte per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e un 39enne. La misura di prevenzione è stata aggravata con l'obbligo di soggiorno per due anni nel comune di residenza. Le ultime due misure sono state eseguite nei confronti di un 55enne già condannato per aver commesso reati contro il patrimonio e nei confronti di un 42enne già condannato per tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi. Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa con 583 immigrati, due le persone disperse. Grafica di sbarchi a Lampedusa, due migranti sono caduti in acqua e sono dispersi. La guardia costiera ha soccorso un barchino di 6 metri con 67 somali, gambiani e ivoriani che erano a bordo del natante e che hanno iniziato il viaggio da Sfax in Tunisia pagando 1.500 dinari tunisini a testa. Il gruppo è sbarcato ieri sera a Lampedusa dove nell'arco di 24 ore ci sono stati 12 approdi con un totale di 583 persone. Dopo mezzanotte un nuovo sbarco con 48 etiopi e sudanesi. I militari della motovedetta della Guardia di Finanza li hanno fatti scendere dall'imbarcazione di 7 metri lasciata poi alla deriva. Sono 362, compresi 79 minorenni non accompagnati, i migranti ospiti dell'hot spot di Lampedusa da dove ieri sera erano state trasferite a 266 persone giunte all'alba a Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è in programma lo spostamento di tutti gli ospiti della struttura di Contrada in Miracola, sempre con traghetto di linea per Porto Empedocle. Il centro sarà svuotato se non vi saranno nel corso della giornata odierna nuovi e ulteriori sbarchi. Confesercenti Sicilia nel 2023 con la Borsa per il turismo nell'extralberghiero conferma il costante impegno verso le attività imprenditoriali di piccole imprese che gestiscono l'ospitalità in Sicilia. Presentato a Palermo il report realizzato dall'Osservatorio sul turismo per le isole europee che ha aperto l'edizione della Borsa del turismo extralberghiero. Settima edizione della Borsa del turismo extralberghiero, un evento che conferma il suo voler essere strumento a supporto dello sviluppo turistico regionale, tante le attività in programma. Al centro gli incontri tra ben 20 vetturo per etoro che provengono dai principali mercati turistici di riferimento per la nostra regione, prevalentemente dalla Francia, dalla Germania, dal Regno Unito, dalla Turchia, dalla Repubblica cieca. Creando così una grande opportunità per il sistema ricettivo diffuso per proporsi non soltanto nei confronti dei mercati emergenti ma per consolidare la nostra presenza come destinazione di eccellenza anche nei mercati turisticamente maturi. Chiudiamo con più di 255 mila presenze e una ricaduta sulla Sicilia, sull'economia della Sicilia di più di 7 milioni di euro. Questo è il risultato di un progetto ormai che cammina sulle gambe di tante realtà, di tante associazioni, di tante scuole, di tanti ragazzi, di tanti enti pubblici che fanno parte di questo palinsesto corale che mette insieme le città e le trasforma in musei diffusi. Oggi presentiamo il rapporto sul turismo extralberghiero alla BTE, siamo contenti di questo risultato e dei dati che sono venuti fuori. Le strutture che chiamiamo extralberghiere sono la maggioranza, c'è sette strutture su una struttura alberghiera e quindi questo settore cresce tantissimo come forma di ospitalità che è quella della Sicilia, cioè relazionale, quella che siamo abituati a fare. Molti giovani fanno queste attività, molta varietà adesso nelle forme di ospitalità e soprattutto un'economia più legata al territorio e alle produzioni. Il turismo cresce, deve crescere laddove ci sono le produzioni. La sfida futura è territori che noi chiamiamo interni ma sono i più belli della Sicilia che se organizzati con giovani, ragazzi, amministrazioni diventeranno ovviamente il nuovo polo del nostro tipo di ospitalità. Noi abbiamo un turismo tradizionale che talvolta anche assume dei caratteri del consumo, delle risorse e della bellezza. E poi invece c'è il turismo che funge da ecosistema ed è quello più interessante. C'è il turismo che permette di guardare le persone che arrivano in Sicilia, che arrivano a Palermo come abitanti temporanei. Questo significa anche dal punto di vista di un'assessore all'urbanistica cominciare a pensare una città che sia in grado di espandere i suoi servizi e contrarli a seconda di quanti abitanti in quel momento ha. Allora questo è un lavoro che stiamo facendo sulla città. Cominciare a capire che per esempio il trasporto pubblico ma anche la ricettività, le attività culturali, le iniziative sociali non debbano essere tarate soltanto per gli abitanti stabili, e lo devono essere, ma devono in qualche modo essere in grado in una maniera pneumatica e flessibile di estendersi. Sconti sul costo dei biglietti aerei per tutti i residenti in Sicilia. È questa la strategia del governo Schifani per contrastare il caro voli e agevolare così i siciliani finora costretti a subire l'impennata dei prezzi, soprattutto nei periodi di alta stagione e nei festivi. In attesa che le nostre denunze all'antitrust e alla Commissione europea vengano recepite o accolte dinanzi a questo scandalo, il governo ha deciso che tutti i cittadini siciliani che raggiungeranno Roma o Milano abbiano uno sconto fisso nel biglietto del 25%. Una copertura finanziaria normalmente di più di 25 milioni che ci consente anche di poter ulteriormente offrire degli sconti che arriveranno fino al 50% per gli studenti e per le fasce economicamente deboli. Abbiamo una copertura di un anno e siamo pronti naturalmente a proseguire in questo percorso nell'auspicio che invece questo scandalo venga risolto perché effettivamente è una situazione inaccettabile per il nostro Paese. Abbiamo attinto per questa misura che stiamo operando alle somme stanziate secondo l'articolo 119 sulla insularità, il nuovo principio della Costituzione che prevede che occorre stanziare da parte del governo, cosa che ha fatto, delle somme per compensare la marginalità derivante da essere isola. Saremo operativi dal 1 dicembre, attendiamo col bando che le compagnie aderiscono a questa nostra proposta, già abbiamo i segnali che tutte le compagnie aderiranno a questa piattaforma e saranno pronte ad effettuare lo sconto sulla base della residenza immediatamente con l'autodicharazione di chi fa il biglietto. Applicheremo sconti per singoli biglietti andati a ritorno fino a 150 euro, pensiamo a un nucleo familiare che si sposta durante questo periodo o durante il corso dell'anno potrà risparmiare per ogni singolo viaggio 600 euro a nucleo familiare. È una grande conquista per tutti i siciliani, è una priorità del governo Schifani fin dal suo primo insediamento e non siamo neanche ad un anno dall'insediamento del governo. Ci siamo insediati appena il 18 novembre del 2022, oggi il 10 novembre 2023 abbiamo trovato una soluzione, l'abbiamo concordata col governo nazionale, voglio ringraziare il premier Giorgia Meloni per l'attenzione che ha avuto nei confronti della Sicilia. Un grande lavoro è stato svolto anche a fianco con il viceministro Bignami che è il delegato del governo, del ministero per i rapporti con le compagnie aeree, l'ENAC e i controlli aerei e sappiamo tutti quanto il presidente della regione tenesse alla difesa e tutela dei diritti dei cittadini soprattutto sulla mobilità aerea. E parliamo ancora di carovoli in Sicilia. Conf consumatori dichiara che l'abbattimento delle tariffe per i residenti è un primo importante passo ma non basta, occorre superare la logica di interventi tampone e programmare per tempo l'utilizzo delle risorse per l'insularità. Le misure annunciate dalla regione siciliana in materia di carovoli come l'abbattimento fino al 50% delle tariffe aeree per i residenti per i voli da e per Milano e Roma per 13 mesi devono certamente essere valutate positivamente e potranno consentire un abbattimento dei costi. Tuttavia non bastano e non possono bastare perché intervengono su una realtà che resta sempre la stessa, l'esagerato prezzo dei voli messo in atto dalle compagnie aeree, le quali si fanno concorrenza e che aumenta di più i prezzi di vendita. Inoltre si tratta di misure di cui non potranno beneficiare tutti i siciliani. Per questi motivi è necessario porre mano ad un intervento più ampio e strutturale che possa porre fine a questo deplorevole fenomeno. La nostra proposta, quella di conf consumatori e di risoluzione del problema, è sempre stata quella della continuità territoriale per assicurare giusti benefici ai residenti nel sistema dei trasporti. E anche Forza Italia scende in campo affermando l'iniziativa presentata dal governatore Schifani per fronteggiare il caro voli è un modo per intervenire a sostegno dei tanti siciliani vittime di quello che, in modo sempre più evidente e innegabile, è un soppuruso ai danni della nostra regione. Mentre prosegue infatti l'azione politica e amministrativa su diversi fronti e mentre attendiamo gli sviluppi delle verifiche avviate a livello nazionale ed europeo dalle autorità antitrust, il governo regionale ha individuato delle risorse che serviranno allenire i danni subiti dai cittadini e dall'economia della Sicilia. Una ragione per apprezzare ancora una volta il grande impegno profuso fino ad ora e che continua per arrivare alla soluzione di questo problema. Nuovo appuntamento ad Enna per la campagna di comunicazione ideata dal Dipartimento dell'Energia della regione siciliana per sensibilizzare i cittadini all'uso razionale dell'energia elettrica e per evitare ogni tipo di spreco. Dopo Palermo e Messina nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Enna ha fatto tappe il tour organizzato nelle nuove città siciliane, capologo di provincia alla presentazione di l'Energia della Sicilia, la campagna di comunicazione cross-mediale ideata dal Dipartimento dell'Energia della regione siciliana, un'occasione per fare un primo bilancio dell'iniziativa il cui scopo è quello di sensibilizzare all'uso razionale dell'energia elettrica per evitare ogni tipo di spreco. Il road show finale sarà nel capologo Etneo interamente dedicato a scuole e cittadini. Il bilancio è senz'altro positivo, abbiamo avuto delle buone risposte da parte degli ordini professionali e delle organizzazioni di categoria che hanno partecipato con le loro massime rappresentanze ai nostri incontri, quindi sono stati momenti di confronto con le esigenze di queste categorie e quindi come regione siciliane abbiamo potuto implementare il messaggio rispetto a questi soggetti che poi sono i principali fautori del percorso dell'efficientamento energetico, perché i progettisti in quanto tali e poi le imprese che devono realizzare gli interventi sono coloro che poi materialmente devono condurre un percorso nella riqualificazione del nostro costruito verso l'efficienza energetica. Tappe fondamentali del tour di energie per la Sicilia, i workshop diretti alle scuole. Abbiamo fatto però i workshop a Palermo e Messina e in tutte e due le città abbiamo avuto un grande ritorno di pubblico, anche perché le scuole sono molto sensibili a questi temi e hanno istradato i loro studenti verso queste tematiche e la modalità attraverso la quale facciamo questi workshop che sono degli edu game e delle sale immersive sono particolarmente interessanti per gli studenti. Parliamo di musica, Le sirene a gennaio è un brano dedicato ad un amico scomparso tanti anni fa. Quattro compagni di scuola hanno formato una band IQB e hanno scritto e prodotto una canzone intima che arriva a tutti quelli che hanno qualcuno da ricordare. Il testo nasce un pomeriggio in cui noi volevamo ricordare il nostro compagno nell'anniversario della sua scomparsa. A un certo punto è venuto fuori per flusso di coscienza e da quel momento in poi, nei 15 minuti successivi a quello che io ritenevo essere un ritornello, è nata tutta la canzone. Il passo successivo è stato quello di sottoporla ad Angelo, che è uno dei chitarristi, è anche il fratello e compagno di classe di Carlo, si chiamava così. Da quel momento in poi è nato tutto il percorso che ci ha portato fino all'incisione del brano. Praticamente un percorso inverso rispetto a quello che fanno le band normalmente. Prima fanno gavetta in giro e poi producono un lavoro. Sì, però è il nostro lavoro particolare. Io l'ho sempre definito un crossover perché nasciamo tutte e quattro da esperienze diverse. Io vengo dal mondo della scrittura, mentre gli altri vengono dal mondo della musica. Questi mondi si sono incontrati e alla fine quello che è venuto fuori è qualcosa di molto intimo, molto profondo. Dopo vent'anni da un avvenimento doloroso che ha colpito e investito tante persone, me in qualità di fratello e dei miei compagni, che erano anche compagni di mio fratello, è nata l'idea di volere ricordare, di portare negli anni avanti, a distanza di tempo, la memoria di un compagno, di un fratello, di un amico. Dopo vent'anni quattro amici, quattro compagni si ritrovano a mettere in campo un testo che all'inizio sembrava una poesia ma che poi è diventata una canzone. Il ricercato è il vino prodotto nella sede dell'ente Parco dell'Etna dai reclusi dell'Istituto Penitenziario di Acireale. Vediamo il servizio. Si chiama ricercato e prodotto con le uve coltivate nella sede dell'ente Parco dell'Etna e con il lavoro dei giovani reclusi e degli educatori dell'Istituto Penitenziario minorile di Acireale, degli studenti e degli insegnanti dell'Istituto Agrario di Catania, del presidente e della personale dell'ente Parco. L'iniziativa, che si ripete da diversi anni, nasce da una proposta del garante dei diritti dei detenuti del tempo, Salvo Fleres, dalla direttrice dell'Istituto Penitenziario minorile, Carmela Leo, dalla preside dell'Istituto Agrario Giuseppina Lobbianco, dall'educatore penitenziario Roberto Puzzo, dal professor Giovanni Vecchio, dai funzionari Giuseppe Gumina e Rosa Spampinato, sostenuti dal presidente Carlo Caputo. L'iniziativa rappresenta un esempio concreto di come si possano coniugare diversi esempi virtuosi ai fini di un serio processo di rieducazione e reinserimento sociale attraverso l'istruzione e il lavoro. Nel corso della manifestazione, oltre alla presentazione dei vini dell'ultima vendemmia, sono state illustrate le notevoli prospettive occupazionali offerte dall'Istituto Tecnico Agrario. Sport Volley, quarta giornata del campionato di Superlega Credem Banca 2023, Farmitalia Saturnia affronterà domani al Palacatania il Rana Verona. Quarta giornata del campionato di Superlega Credem Banca 2023 e Farmitalia Saturnia, che è pronta ad aprire le porte del Palacatania per il match in programma domani, domenica 12 novembre alle ore 20 contro il Rana Verona. In questa settimana, oltre agli allenamenti, i ragazzi di Silva hanno avuto modo di osservare i loro avversari in azione con sessioni video per valutare ogni singolo giocatore e capirne la tattica di gioco. Oggi pomeriggio e Biancoblu torneranno al Palacatania per un'altra sessione video e un allenamento che anticipa la giornata di domani, quando dopo la rifinitura si attenderà solo il fischio d'inizio delle ore 20. Il botteghino della Palacatania aprirà alle ore 17. Un avversario è ancora un po' da scoprire in realtà. Loro hanno fatto già quattro partite, praticamente l'ultima partita con un sestetto diverso della guerra precedente e ancora dell'altra gara precedente, quindi ci sta un pochino da scoprire chi sarà il starting six in realtà. Però ci stiamo lavorando su singoli giocatori, certamente anche con la lettura di tutti e due palleggiatori. Dobbiamo essere molto bravi a gestire il nostro attacco. La settimana ancora è una settimana di progressione delle ultime due settimane precedenti. Siamo sempre puntando su mantenimento e qualche miglioramento dei meccanismi, sempre la nostra fase di cambio palo e puntando tanto sulla nostra battuta e il contrattacco. Ed è tutto per oggi, grazie per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento con i nostri notiziari di media news.